Questa volta ci mettiamo la voce. Cosa c'è di strano? È una minaccia? Mettiamoci la voce, il podcast dove parliamo di lettura ad alta voce per te stesso, la tua famiglia e il tuo lavoro. Buongiorno, bentrovati, io sono Maria Grazia. Io sono Francesco. E io sono Sandro. Ci mettiamo la voce oggi, vero? E questo è mettiamoci la voce, solo che questa volta vogliamo un po' cambiare. Cosa facciamo di nuovo? Non una solita chiacchierata, ma una insolita lettura. Che leggiamo? Che leggiamo? Dunque abbiamo deciso di... Facciamo come se non lo sapessimo. Cominazione abbiamo tre segmenti dello stesso romanzo. Guarda, è scelta a casa. Allora, spieghiamo. Dunque, ci piace anche leggere per voi, no? Non soltanto parlare di lettura, ma leggere. E dato che ci piacciono le cose difficili, non abbiamo scelto una cosuccia proprio così da nulla, ma siamo andati a rispolverare... Ma nel vero senso della parola, perché... Esatto. Niente meno che un romanzo del 1869. Allora, avrete sentito parlare a scuola della scapigliatura. Chi se lo ricorda cos'era la scapigliatura? Era questo movimento di scrittori, devo dire, un po' ribelli anche, un po' che avevano come idea quella di contrapporsi alla corrente del romanticismo, così come aveva preso campo in Italia, e per andare invece a recuperare certi aspetti, certe caratteristiche del romanticismo europeo, particolarmente tedesco e francese, dove i rappresentanti erano gente come Baudelaire, quindi veramente anche non solo autori che scrivevano in un certo modo, ma anche persone che vivevano in un certo modo, un po' sopra le righe, in modo, come dire, un po' da bohemian, anche ostentando una certa condotta di vita che poteva essere anche scandalosa. I scapigliati italiani non sono così scandalosi, però hanno, nel genere, insomma, di letteratura che producono, scrivono storie, trattano argomenti che sono abbastanza insoliti, che sono un po' al margine. Uno di questi è il nostro amico Ugo Eginio Tarchetti, che scrive, tra le altre cose, questo romanzo Fosca, e che cos'ha di particolare Fosca? Che è la storia di un militare che sta vivendo un periodo, si direbbe oggi, di malattia, quindi di congedo temporaneo per malattia, e intrattiene due relazioni. La prima con una donna molto bella, che è sposata, e questo, insomma, è una complicazione, logicamente. La seconda è una storia che, potremmo dire, gli capita quasi fra capo e collo, con una donna della quale lui si sarebbe aspettato tutto, tranne che di innamorarsi, perché questa donna è particolarmente brutta. E questo, diciamo, non è elogio, ma comunque questo mettere in primo piano la bruttezza, è un argomento, è un aspetto letterario davvero singolare per l'epoca. Ma questa donna brutta, questa Fosca, ha una caratteristica, che è quella di essere comunque molto acuta, intelligente, colta. Però forse, leggendo il romanzo, scopriamo che non è nemmeno tanto di questo che si innamora Giorgio, il protagonista, perché comunque fra i due si instaura un rapporto davvero morboso a un certo punto, che arriva quasi a uno scambio di malattie, lei anche, no? è genericamente malata, non si capisce bene in che termini, forse una malattia nervosa, no? Qualcosa che allora era genericamente, no? Intesa una malattia nervosa. Insomma, questo per inquadrare un po' la singolarità della storia e quindi ve ne porgiamo tre segmenti non consecutivi. Uno è l'inizio del romanzo, l'altro è il momento appunto in cui Giorgio conosce Fosca e l'altro è uno dei momenti in cui si configura questo proseguio che porterà proprio anche a consumare questo rapporto. Spiegatemi perché avete voluto me come primo lettore, per far andare via tutti. Hai la faccia da incipit. Ho la faccia da incipit. Aggiungo un piccolo particolare che da buon scapigliato, questo romanzo è in parte autobiografico, non è la storia proprio precisa di una relazione che l'autore ha avuto, ma è sicuramente ispirato da una sua esperienza personale. Quindi, volevo procrastinare ancora un po', ma toccherà iniziare. Sì, diciamo che allora c'è un inizio che adesso sentirete, la narrazione poi è quella, come fosse una sorta di, non di diario, ma insomma una narrazione in prima persona fatta dal protagonista. E allora iniziamo con Fosca. E ecco a voi, Fosca. Commetto io un'indiscrezione nel pubblicare queste memorie? Credo di no. Né una titubanza più lunga giustificherebbe ad ogni modo la mia colpa. Colui che le ha scritte ora è troppo indifferente alle cose del mondo, troppo sicuro di sé perché abbia a godere dell'elogio o a soffrire del biasimo che può derivardene. Egli sa per quale strana combinazione questo manoscritto è venuto in mio potere. Ne ignora il disegno che io aveva concepito di pubblicarlo. Gli basterà che io vi abbia tolte quelle indicazioni che potevano compromettere la fama di persone ancora viventi e che il segreto della sua vita attuale sia stato rispettato. Se l'autore di queste pagine può ancora trovare nella solitudine e nell'egoismo in cui si è rifuggito qualche parte di ciò che egli fu un tempo non gli farà forse discaro che altri abbiano a versare nel leggere queste memorie quelle lacrime che egli ha certo versato nello scriverle. Milano 21 gennaio 1869 Capitolo 1 Mi sono accinto più volte a scrivere queste mie memorie e uno strano sentimento misto di terrore e di angoscia mi ha distolto sempre dal farlo una profonda sfiducia si è impadronita di me temo immiserire il valore e l'aspetto delle mie passioni tentando di manifestarle temo obbliarle tacendole perché ella è cosa quasi agevole di dire ciò che hanno sentito gli altri l'eco delle altrui sensazioni si ripercuote nel nostro cuore senza turbarlo ma dire ciò che abbiamo sentito noi i nostri affetti le nostre febbri i nostri dolori è compito troppo superiore alla potenza della parola noi sentiamo di non poter essere nel vero ho pensato spesso con gioia la rovina che il tempo va facendo delle mie memorie più spesso vi ho pensato con dolore dimenticare è uccidersi è rinunciare a quell'unico bene che possediamo realmente e impreteribilmente al passato che si potessero dimenticare soltanto le gioie forse l'oblio potrebbe essere giustamente desiderato ma dei dolori noi siamo superbi e gelosi noi li amiamo noi li vogliamo ricordare sono essi che compongono la corona della vita il passato è la misura del tempo che abbiamo percorso la misura di quello che ci rimane a percorrere perciò noi lo teniamo caro perché ci fa fede dell'accorciarsi progressivo dell'esistenza un'avidità febbrile di morire affatica inconsciamente gli uomini chi vorrebbe tornare indietro un'ora un minuto un istante nella sua vita nessuno eppure si ama e si rimpiange questo passato che si ha orrore di rinnovare scrivere ciò che abbiamo sofferto e goduto è dare alle nostre memorie la durata della nostra esistenza scrivere per noi per rileggere per ricordare in segreto per piangere in segreto ecco perché scrivo vi fu un tempo in cui avrei voluto fare un libro delle cose che sto per raccontare un'inclinazione che i casi della mia vita avevano combattuto per tanti anni ma né dominata né vinta mi aveva trabalzato già tardi già vecchio di ingegno e di cuore nel mondo della pubblicità e delle lettere io non vi aveva potuto portare che le memorie di una gioventurica di molte passioni di una vita lungamente e orribilmente angosciata ove l'arte avesse trovato in me valore pari alla grandezza del soggetto il racconto che mi accingeva a scrivere mi avrebbe forse procurato un successo clamoroso non di meno me ne astenni gettare nel fango della pubblicità il segreto dei miei dolori sacrificarlo alle vuote soddisfazioni della fama sarebbe stata debolezza d'indegna del mio passato io scrivo ora per me medesimo non avrei mai osato violare la sola religione che è sopravvissuta alla rovina della mia fede la religione delle mie memorie su questo vecchio quaderno su cui ho tentato già tante volte di incorniciare il mio racconto ci sono molte cancellature che non posso più decifrare temo che il tempo abbia pure cancellato dalla mia anima non poche delle sue rimembranze questi fogli su cui la mia anima si è arrestata tante volte trattenuta da un terrore che non poteva vincere mi accompagnano già da cinque anni nelle mie faticose preclinazioni sulla maggior parte di essi vi è scritto nulla pure sembra che il mio pensiero vi abbia tracciato delle cifre misteriose e solenni tanto vi ho meditato sopra guardandoli e li svolgo nell'ansietà di leggerli e osservo con melanconia i piccoli acari della carta che fungono lungo le loro pieghe ingiallite sì sono ormai cinque anni le cause del mio terrore non hanno cessato di esistere perché il mio cuore non è di quelli che dimenticano ma comunque sia questo terrore è dissipato mi sento ora il coraggio di ricordare e di scrivere ora che tutto deve essere finito mi guardo spesso l'intorno come se fosse rimasto solo nel mondo come se le illusioni che mi avevano accompagnato sin qui fossero state cose vive e sensibili come se dovessi rivederle al mio fianco era venuto innanzi solo nella mia vita e non mi era accorto di essere solo ma ora ora ho provato la solitudine della società e l'ho spesso cercata con ardore e l'ho cercata anzi sempre quella è nulla è la solitudine delle passioni che è orribile non so se gli altri uomini abbiano seguito un passaggio così rapido e così violento come il mio dal periodo della fede a quello della disperanza se siano passati ad un tratto dalla vita operosa della gioventù alla vita inerte e sconsolata della vecchiezza credo non di meno che molti vi siano entrati con calma quelli che amarono serenamente e con calma capitolo 15 il mio desiderio fu esaudito con obbi finalmente fosca un mattino mi recai per tempo alla casa del colonnello vi pranzavamo tutti uniti e ad un'ora ma per la colazione vi si andava ad ore diverse alla spicciolata e mi trovai solo con essa Dio come esprimere con le parole la bruttezza orrenda di quella donna come vi sono beltà di cui è impossibile dare un'idea così vi sono bruttezze che sfuggono ad ogni manifestazione e tale era la sua né tanto era brutta per difetti di natura per disarmonia e difattezze che anzi erano in parte regolari quanto per una magrezza eccessiva direi quasi inconcepibile a chi non la vide per la rovina che il dolore fisico e le malattie avevano prodotto sulla sua persona ancora così giovine un lieve sforzo di immaginazione poteva lasciarne travedere lo scheletro gli zigomi e le ossa delle tempie avevano una sporgenza spaventosa l'eseguità del suo collo formava un contrasto vivissimo con la grossezza della sua testa di cui un ricco volume di capelli neri folti lunghissimi quali non vidi mai in altra donna aumentava ancora la sproporzione tutta la sua vita era nei suoi occhi che erano nerissimi grandi felati occhi di una beltà sorprendente non era possibile credere che ella avesse mai potuto essere stata bella ma era evidente che la sua bruttezza era per la massima parte effetto della malattia e che giovinetta avrebbe potuto forse essere piaciuta la sua persona era alta e giusta vera ancora qualcosa di quella pieghevolezza di quella grazia di quella flessibilità che hanno le donne di sentimento e di nascita distinta i suoi modi erano così naturalmente dolci così spontaneamente cortesi che parevano attinti dalla natura più che dall'educazione vestiva con la massima eleganza e veduta un poco da lontano poteva trarre ancora in inganno tutta la sua orribilità era nel suo viso certo ella aveva coscienza della sua bruttezza e sapeva che era tale da difendere la sua reputazione da ogni calunnia possibile aveva d'altronde troppo spirito per dissimularlo e per non rinunziare a quegli artifici a quelle finzioni a quel ritegno convenzionale a cui si appigliano ordinariamente tutte le donne in presenza di un uomo me l'ha rappresentato da me stesso nell'entrare allorché fui seduto a tavola e la venne a prendere posto vicino a me e mi disse con dolcezza vi vedo solo e mi permetto di farvi un poco di compagnia desiderava di conoscervi e di ringraziarvi personalmente dei libri che mi avete mandato il mio cugino mi aveva parlato di voi e avrei voluto vedervi un po' prima ma come fare sono sempre così malata fui colpito dalla sua vita della sua voce più ancora di qual non fossi stato della sua bruttezza ora mi sembrate però guarita risposi io guarita esclamò ella sorridendo mi pare di no l'infermità è in me uno stato normale come lo è in voi la salute vi ho detto che ero malata fu un abuso di parole ne faccio sempre per esserlo converrebbe che io uscissi dalla normalità di questo stato che avessi un intervallo di sanità ho voluto chiudermi parecchi giorni nella mia stanza ecco tutto ed aveva le mie ragioni ho attraversato un periodo di profonda malinconia vedendo che la conversazione minacciava si presto di trascinarmi nel campo delle confidenze mi astendi dal risponderle non sapete e la riprese dopo un istante di silenzio e con un tuono diverso di voce che quel romanzo di Rousseau mi ha entusiasmata ne conosceva il soggetto e ne aveva avuto sott'occhi alcuni sunti ma non l'aveva mai letto avete avuto troppa premura di restituirmelo è libro che vuole essere meditato è vero se il meditarvi sopra non fosse cosa pericolosa parmi anzi utile utile sì certamente voleva dire pericolosa per la nostra pace per noi donne per me vi sono delle letture che mi fanno male voi sapete io dissi per tenermi da capo sulle generali che Rousseau così virtuoso nei suoi libri ha esposto cinque figlioli alla ruota di Parigi essa mostrò di non aver compreso quell'artificio accennò del capo come se avesse voluto dire altro è l'uomo altro le sue opere e riprese credo che il meditare sui libri e il rileggerli sia cosa sommamente inutile anzi sommamente nociva a meno che in tutta la vita non se ne leggesse che uno solo e questo fosse tale da instillarci i principi retti da fortificarvi di libri educativi non se ne può leggere che uno appena la contraddizione già che ogni uomo ha vedute opposte o perlomeno diverse il leggere molti libri il meditare su molti non ha altro effetto che quello di renderci dubbiosi sulle nostre idee incerti nei nostri pensamenti non si sa più a cosa credere e spesso si finisce col non credere più a nulla sono convinta che ogni libro che non diverte fallisce il suo scopo che ogni libro che fa pensare nuoce l'obiettivo di ogni lavoro letterario dovrebbe essere la fantasia non la testa che si guasta non il cuore che sanguina ma l'immaginazione che si esalta e gioisce non avete mai provato l'ebbrezza dell'immaginazione dal capitolo 37 stette un momento a guardarmi come rapita alzò gli occhi e vide un vecchio Cristo di legno appeso alla parete tu credi mi chiese ella un poco e preghi qualche volta vi fu un tempo in cui ho creduto anch'io in cui ho pregato anch'io quando aveva 15 anni piangeva tutte le sere pregando in collegio c'era un camerino dove andava a nascondermi per poter essere sola pregare ad alta voce senza essere sentita a quell'età quella fede ora è tutto finito sono tre anni che non prego più penso sovente al cielo ma senza invocarlo due mesi or sono nei primi giorni che ti conobbi in una notte che c'era stato un gran temporale e non aveva potuto dormire mi alzai e mi affacciai alla finestra aveva cessato di piovere il cielo si era rasserenato come per incanto e scintillava di miriadi di stelle l'aria era fresca imbalsamata ricca di quel profumo acre che ha la terra bagnata e allora mi ricordai con più forza di Dio e tesi le braccia al cielo quasi per chiedergli misericordia di me e della mia giovinezza infelice ma fu in darno io non sentiva più la sua voce ma tu non puoi non credere io le dissi la tua bontà è una fede la tua virtù è una religione i tuoi dolori sono una preghiera quanti onesti credono di essere atei perché sono infelici la loro infelicità sembra volerli allontanare dal cielo e non sanno di essere più credenti degli uomini vuola bontà non essere credente ciò è vero disse ella se potessi credere ancora ma per te crederò sai pregherò ancora per te sarò esaudita lo stesso stasera dirò le mie vecchie orazioni le dirò sempre tutti i giorni domani andrò in una chiesa per pregarvi e per piangervi mi fece passare una mano sotto il capo volse il mio viso verso il suo mi guardò e mi sorrise con gli occhi bagnati di lacrime come sei bello così malato mi disse se tu non soffrissi vorrei vederti sempre così farei patto di passare tutta la mia vita in questo modo vicino al tuo letto a guardarti mi arruffò i capelli con le mani li fece cadere a ciò che da un lato e dall'altro del guanciale si alzò prese uno specchietto e mi disse guardati io mi guardai e sorrisi baciò lo specchio lo ripose e tornò a sedersi ora me ne andrò mio cugino era uscito e non sarà tornato ancora se lo sapesse ebbene se lo sapesse ma che monta riprese crollando il capo e riabbracciandomi io ti adoro Giorgio io ti adoro che mi importerebbe perdere la mia pace la mia fama e rendermi anche ridicola quando ciò fosse per te ov'è il tuo male? nella testa nel cuore nell'uno e nell'altro più nel cuore anche il mio è lì mi sento una pena un fuoco una quantità di sangue ti parrà strano che io tanto consunta soffra di troppo sangue eppure è così ieri mi sono sentita meglio quelle graffiature mi avevano fatto bene dovresti levarmene un poco si tolse uno spillone dalla cintura e me lo diede e disse forami una mano forami ma è una follia che idea no no esclamò con impazienza io lo voglio te ne prego Giorgio io allontanai il braccio e la fu sollecita ad afferrarlo a tirarlo verso di sé e a percuotere la mano che aveva libera sullo spillo si ferì leggermente una goccia di sangue cadde sul mio guanciale ora sono contenta di sella mi fa male mi abbrucia sono contenta va va le dissi io è tardi sì andrò ritornerò domani fuggirò ancora ma per pietà non soffrire non essere triste guarisci presto guarisci presto si abbassò a raccogliere lo scialle che aveva calpestato passeggiando guardò tutto intorno alla stanza guardò il mio letto i miei mobili e disse che pace vi è qui dentro che raccoglimento che religione è qui che tu vivi o mio Giorgio si inginocchiò e stette assorta un istante non so in quali pensieri si calò il velo del cappello si alzò e mi disse con voce ferma e risoluta un solo bacio uno solo e partirò subito la baciai attraverso il suo velo vidi lucere le sue lacrime prese un lembo del mio lenzuolo e se lo avvicinò alle labbra baciò anche un piccolo libro che vera sul tavolino quando fu vicina all'uscio tornò indietro si fermò ai piedi del mio letto si appoggiò con le mani incrociate sulla spalliera mi guardò un istante poi uscì senza parlare all'indomani il dottore mi trovò assai peggiorato e questi sono i nostri tre assaggi di fosca di Tarchetti un po' amari come assaggi però magari chi lo sa abbiamo anche scapigliati scapigliati magari in qualcuno abbiamo suscitato che ne so la curiosità di leggere o di rileggere qualcuno l'avrà già letto abbiamo tirato anche un film fosca per la scuola mi sembra è chiaro che essendo un linguaggio anche nella metà dell'ottocento ci sono delle cose un po' strane ma ci si abitua per esempio avrete notato che nella parte iniziale di Sandro c'è il termine pubblicità al quale noi diamo un termine ben chiaro invece in quel caso è evidente che pubblicità vuol dire vita pubblica vita sociale e così come ce ne sono tante altre con l'uso dell'info io aveva molto letterario si si tutti li aveva avea però dopo un po' si fa familiarità anche si crea una certa familiarità anche con una scrittura che è oggettivamente lontana da noi però la storia ha un suo fascino poi non manca il duello non manca non diciamo cose anche se non è un giallo così rimane forse a qualcuno la curiosità bene io direi che se se vi va fateci sapere se se è un esperimento da ripetere questo se vi piace perché no sceglieremo magari altri testi magari testi curiosi meno conosciuti sì 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 e ve li proponiamo bene dai allora grazie e alla prossima grazie ciao ciao e a presto ciao